Onorevole Busin, la Lega Nord ha presentato in Commissione Finanze e Lavoro alla Camera dei Deputati degli emendamenti per il blocco delle pensioni d'oro. Questo emendamento insieme ad altri che fanno parte appunto del decreto legge 54, quello che sospende l'Imu e trova i rifinanziamenti per la Cassa Inderoga e il divieto di cumulo degli stipendi per i ministri. Purtroppo con un criterio che a noi rimane sconosciuto è sempre un mistero perché certi emendamenti vengono dichiarati inammissibili qui, ammissibili al Senato, non si capisce con quale criterio. Noi abbiamo protestato questa decisione perché alcuni emendamenti ci sembravano non solo attinenti ma anche sacrosanti. Non rinunciamo comunque a proporli, semplicemente li ripresenteremo su altre forme, con altre metodologie. Resta fermo il nostro intendimento di attaccare queste ingiustizie che si nascondono dietro il concetto di diritti acquisiti inviolabili. Secondo noi invece i diritti quando sono ingiusti e acquisiti in modo assolutamente non condivisibile possono essere attaccati. Come quello delle pensioni d'oro che si sono state acquisite con il sistema retributivo, magari con pochi anni di lavoro e che beneficiano ingiustamente troppe persone.